Irakeno, 45 anni appena compiuti, 10 anni nelle carceri italiane scontati per terrorismo. È arrivato a Bari nei mesi scorsi in seguito a un provvedimento di espulsione, sospeso per il ricorso avanzato da lui stesso per richiedere lo status di rifugiato politico. Majid Muhammad, arrestato nelle scorse ore da agenti della polizia, era sotto controllo dallo scorso febbraio quando era stato sorpreso all'interno di un appartamento in via Sagarriga-Visconti, nel quartiere Libertà di Bari, insieme ad altri 15 immigrati. Tutti in regola, compreso Majid, che però venne trovato in possesso di documenti che lo legavano a Bassamayachi, l'imam di Molenbek, fermato a Bari nel 2009 ed esponente di spicco delle organizzazioni terroristiche Ansar al-Islam. Così come lo stesso Muhammad, che da quel momento è stato seguito nei suoi spostamenti, tra cui l'assidua frequentazione di una kebaberia in via d'Avanzati, fino all'arresto delle scorse ore in un appartamento in via Melo da Bari, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione e della permanenza illegale sul territorio nazionale. Non di terrorismo però, come ribadisce il questore di Bari, Antonio De Jesu. Non c'è in questo momento a livello investigativo nessun elemento che ci possa portare a pensare che si stesse pianificando un'azione terroristica né a Bari, né in campo nazionale, né a livello internazionale. Le indagini sono ancora in corso, la DBA, che ha coordinato in maniera brillante ed eccezionale questo tipo di attività investigativa con il dottor Rossi, ha offerto un impianto accusatorio al GIP che l'ha convalidato, l'ha legittimato e ha messo stamattina un'ordinanza di corso da cautelare. Per quel tipo di reato, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un arresto che però conferma la posizione delicata di Bari nel contesto della sicurezza posta a attentati parigini del 13 novembre. Non a caso le indagini, ancora in corso e che non escludono ulteriori collegamenti e ipotesi di reato, sono state portate avanti con l'inservizio centrale antiterrorismo della polizia e nei giorni in cui è atteso a Bari un contingente di 35 uomini dei reparti speciali delle forze armate. Bari, come vi ho detto prima, è sede di CARA, di CIE, è in ragione della sua storia, della sua cultura, una regione e una città accogliente. È chiaro che chi vuole gestire un reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina trova condizioni ideali perché c'è un basso profilo, c'è un'attenzione sul porto di Bari come portale per i Balcani e per il Medio Oriente.